Chiunque, cittadino di ogni ordine ed età, senza particolari livelli di preparazione scientifica, ma appassionato di dinamiche ambientali, potrà diventare Citizen Science e occuparsi di monitoraggio scientifico. Sarà inaugurata Ravenna la Scienza dei Cittadini, un nuovo approccio alla raccolta di dati di interesse scientifico che prevede il coinvolgimento volontario e la partecipazione attiva della popolazione. L'occasione per presentare la Citizen Science sarà il convegno in programma nella mattinata di mercoledì 6 dicembre a Palazzo dei Congressi. Durante l'incontro saranno presentate le attività dell'osservatorio italiano Citizen Science, avviato da CIFLA, Centro per l'Innovazione di Fondazione Flaminia, e per promuovere il primo evento Blitz italiano aperto al pubblico che si terrà in primavera nel nostro territorio. Il Centro per l'Innovazione è una realtà che è stata costituita all'inizio 2015 e ha l'obiettivo di avvicinare il mondo della ricerca con le attività del territorio, con le imprese e con le attività del territorio. Dal 2015 al novembre 2015 ha ottenuto il riconoscimento nell'ambito della rete alta tecnologia della Regione e si appresta a collaborare con il Tecnopolo che ha sede a Ravenna e a Faenza. L'obiettivo appunto è avvicinare il mondo della ricerca alla città, al territorio e alle imprese. Citizen Science è un punto di incontro in cui scienziati e cittadini cercano di collaborare con un unico obiettivo molto importante in campo ambientale, quello di conservare e riqualificare il nostro patrimonio naturale. Quindi avendo un obiettivo in comune abbiamo anche uno spazio in comune in cui fare formazione, divulgazione e nel contempo come diciamo scienziati anche un aiuto perché c'è bisogno di molti dati, di molta ricerca per avere dei risultati sempre migliori e quindi l'aiuto dei cittadini in questo è importante. Ma soprattutto è importante che la percezione dei cittadini sia sempre più corretta dal punto di vista scientifico perché così chiederanno anche i nostri gestori del territorio uno sviluppo più sostenibile, chiederanno azioni più coerenti con l'ecologia del territorio. I cittadini quindi verranno chiamati a partecipare? Verranno chiamati a partecipare non solo per periodi brevi, anche questo, ma chi vorrà potrà avere anche un coinvolgimento duraturo nel tempo, poco impegnativo, in cui potranno anche far emergere le loro richieste, la loro voglia di imparare, di fare cultura insomma in campo ambientale ovviamente che è molto importante. Più conoscenza c'è, più cultura c'è, più possiamo gestirlo in maniera adeguata. Parliamo di scienza per i cittadini, cosa intendiamo? Io intenderei attualmente la risoluzione per quanto possibile, ma comunque obbligatoria di iniziare, una conoscenza dei cittadini in modo corretto. Oggi stiamo parlando tutti di fake news, stupidaggini di questo genere, ormai chiunque può parlare, va al bar, lancia una valutazione sull'ambiente e così via. In proposito quindi, tutta la nostra attività si basa su, se vuole un aspetto vecchio di duemila anni, il famoso ipocrite che disse, ci sono solo due cose, la scienza e l'opinione. La prima formula conoscenza, la seconda crea solo dei gran problemi inutili. Questo è quanto più o meno il concetto base, l'essenza massima del problema citizen science, che fortunatamente per la prima volta è aperto a Ravenna e la vede Ravenna uno dei primi, primissimi punti di inizio di questi discorsi.